Buongiorno ragazzi, mi sembra che ci siate, scusate non posso gridare oggi, mi vedete, mi sentite? Professoressa che è? Che è? Sofia Goggia è una scettrice mi sembra E lo so, allora ragazzi cominciamo Ma che si sono rotti i riscaldamenti? No, ci ho avuto problemi qua con... non abbiamo più postazioni perché le ragazze sono in DAD, mio marito è in smart working e sono in balcone Non mi fate gridare e non gridate neanche voi che disturbiamo i vicini Allora ragazzi, tu piuttosto Macaluso dove sei? Allora al buio non ci dovete stare Io vi voglio vedere negli occhi ragazzi, non è che perché siamo distanti Questa didattica distanza significa che non dobbiamo fare lezione o che voi dovete dormire Noi dobbiamo interagire, dobbiamo sforzarci nell'interazione Dove sei Macaluso? Sono nella cabina armadio dei miei genitori Sì, non sta la luce ma sta il wifi potente Lo scrocco ai vicini di casa, così è potente Brava Macaluso E qua sta Brava, questa mi sembra un'ottima idea Allora, oggi facciamo geografia No? Geografia, questa apertura nei confronti di questo mondo che purtroppo in questo... Ma che discoteca Giussi? Che cos'è discoteca? Che devi fare? Non devi fare niente Sei rientrata e resta dentro Ragazzi non mi interrompete per queste problematiche che si risolvono automaticamente e autonomamente Andiamo avanti Allora, geografia Oggi studiamo il mondo, questo mondo che noi vorremmo esplorare in questo momento e che non riusciamo ad esplorare Questo mondo fatto di laghi, fiumi e montagne E cascate ma la Caluso, cascate ma Caluso Sicuro che sei nella cabina Armadio, vero?